musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi la 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 abbiamo ragazzi la pk ufficiale di fortnite android ragazzi abbiamo l'applicazione visto che al mio amico litto è arrivata la mail con l'applicazione da scaricare lui la estratta me l'ha passata e intanto ringrazio gino buon vino che ha donato moni 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 stavo dicendo ragazzi che adesso vi faccio vedere benissimo vi do il link vi ricordo una cosa facciamo velocemente per caso volete scaricarlo lo so lo so allora numero uno ragazzi eccoli lì quelli vi ricordo sono tutti i dispositivi compatibili per la pk che sto per darvi ragazzi il mio dispositivo non è compatibile ma vi farò vedere comunque come fare sto per darvi il link ragazzi mi raccomando pollicione in su per questo video condividetelo con tutta youtube fino in india ciao raman salutiamo che lui è indiano mi raccomando ragazzi condividetelo con tutti i vostri amici su tutti i vostri social spolliciate e pronti a giocare a fortnite il link ragazzi sgargralgral https 2.0 slash slash ufail.io slash vnea4 è semplicissimo come fare per scaricare da qui non è che potete cliccare lì sullo schermo come stai facendo te che sei lì che stai pigiando di prepotenza lo schermo no no per farlo ti faccio vedere allora guarda allora questa è la schermata del mio cellulare ok allora rimpiccioliamolo un attimo rimpiccioliamolo un attimo eccolo qua eccolo qua questa è la schermata del mio cellulare ragazzi dunque si va semplicemente su google ok andiamo su e caca che vuoi tu su google vabbè io sono già un momento un momento google normale da qui da qui clicchiamo sulla barra degli indirizzi di google cancelliamo e facciamo htps htps 2.2 punti slash 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 ufile punto io slash vnea 4 clicchiamo invio lui lui ci dice che sta controllando che il nostro browser possa essere ok come vedete ragazzi apre questa pagina scendiamo e dobbiamo cliccare su slow download quello che c'è sopra quindi senza pagare nulla scaricare di nuovo come epic games porta la pk scarica non ve l'ho messo in rar così evitiamo problemi da qui ragazzi andiamo a vedere lui lo sta scaricando come vedete clicchiamo nel download completato si apre direttamente il programma di installazione premiamo installa è leggerissimo pesa 4 mega perché deve fare prima la verifica che il vostro dispositivo sia compatibile io ve l'ho già detto il mio non lo è quindi mi darà l'errore aspettiamo un attimino perché questi capelli se mi vanno per i fatti loro super like iscrizione al canale app installata clicchiamo su apri si apre epic games ragazzi qualche secondo di attesa io ho una way y6.2 quindi essendo vecchio non è compatibile ma chi di voi ha uno dei cellulari che ho mostrato all'inizio può farlo lui sta controllando e giustamente mi dice siamo spiacenti fortnite non è compatibile con il tuo dispositivo quindi facciamo capito voi ragazzi al posto di dispositivo non supportato avrete ovviamente installa lo premerete questo bottone dove io sto tappando voi non lo vedete comunque qua c'è il dispositivo non supportato ci vogliono un giga e otto se non ricordo male ma lo potrete finalmente scaricare anche voi ragazzi quindi quello lì è il link ragazzi se non avete capito qualcosa non so cosa fare vi ringrazio per aver guardato il video un bacione grandissimo ben like iscrivetevi al canale condividetelo noi ci vediamo in live ciao ciao Grazie a tutti